A Pelagotti di restare sulla linea di porta, con suete indicazioni prima del tiro dal dischetto. Rincorsa molto lunga di Felice Evacuo, fischi assortati per lui. Parte Evacuo. Destro, rete, 3 a 1, accorcia le distanze la Juve Stabia con Felice Evacuo che realizza il suo terzo centro in stagione. Dagli 11 metri è stato freddissimo Evacuo, Juve Stabia che trova il gol della bandiera. Sì, il gol della bandiera comunque.